E' una squadra dei vigili del fuoco di Fano intervenuta all'ex campo di aviezione per un incendio divampato nella tarda mattinata, intorno alle 12.15. Ad andare a fuoco un ammasso di rove e detriti vari. Le operazioni di spegnimento sono durate circa mezz'ora, ma non è chiaro se l'origine del rogo sia accidentale o dolosa. Sul posto anche la polizia locale di Fano.